Il federalismo è pronto, diciamo che entro 15-20 giorni passerà in maniera definitiva in consiglio dei ministri. Io ho un'altra idea, è finito il federalismo, democraticamente dobbiamo bussare per chiedere il decentramento. Il decentramento è quello che è già avvenuto anche in Inghilterra, in Inghilterra non c'è più un solo ministero a Londra, sono tutti stati distribuiti in giro nelle altre città dell'Inghilterra, da noi tutto finisce a Roma. Si festeggiano i risultati della Lega, ma a Torino per la festa del carroccio, Umberto Bossi torna anche sugli scenari futuri della politica italiana. Si aspetta buone notizie domenica da fini sul federalismo? Sentiamo cosa dice. Ma l'ha incontrato oggi? No, non voglio incontrare nessuno. Il rischio delle elezioni quindi non c'è, lontano? Punto di domanda. Il nostro orgoglio è proprio questa straordinaria militanza, che tutte le volte che la Lega chiama, che la Padania chiama, risponde. Viva Bossi! Piemonte libera! Grazie! 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 Grazie!